Truffatore seriale vendeva auto online senza mai consegnarle, ma si è finto povero chiedendo l'ammissione al gratuito patrocinio. Invece aveva redditi per 300.000 euro. Sono state le fiamme gialle di Treviso, nell'ambito delle indagini, finalizzate proprio a contrastare le condotte di quanti accedono indebitamente a prestazioni sociali agevolate, ad accertare che l'uomo, un pregiudicato domiciliato nel Trevigiano, aveva presentato al Tribunale della Marca un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, autocertificando per il 2022 il possesso di redditi per 11.000 euro, omettendo però la dichiarazione di aver percepito altri 300.000 euro. Per questo l'uomo non solo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso, ma è stato ovviamente escluso dalla missione al gratuito patrocinio, istituto che, come è noto, consente alla persona non ambiente di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. Le attività investigative hanno preso avvio da una richiesta inoltrata al gruppo di Treviso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari trevigiano e diretta a verificare la conformità della dichiarazione resa dal pluripregiudicato ai presupposti di legge. I finanzieri hanno quindi incrociato i dati presentati dal soggetto con le altre banche dati, scoprendo che l'uomo, già aggravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e attualmente indagato per episodi di truffa, estorsione e lesioni personali commessi nella provincia di Treviso, non aveva dichiarato i profitti illeciti derivanti proprio dalle truffe compiute nelle province di Arezzo, Caserta, Salerno, Venezia, Verona, Vicenza, ai danni di molti acquirenti che, dopo aver risposto ad annunci online relativi alla vendita di automobili usate, avevano effettuato i pagamenti richiesti senza però ottenere la disponibilità dei veicoli. Ora l'uomo andrà a giudizio per tutti i reati e a sua spese.